Quinta edizione di Energicamente, il più grande laboratorio didattico di educazione ambientale, promosso da Estra, congiunti progetti educativi e lega ambiente. Energicamente interessa 6.000 alunni delle quinte elementari e delle medie di Toscana, Marche e Abruzzo. Estra cresce ancora. Il gruppo acquista la maggioranza di Prometeo, azienda marchigiana di vendita a gas ed elettricità. Estra raggiunge così 720.000 clienti. Dopo Montemurlo, Estracom porta la banda larga a Settimello e Fibbiana. L'intervento riguarda 1.200 famiglie e 800 imprese della zona industriale di Calenzano. Nuova energia per il palazzetto di Arezzo che diventa Palasport Estra. Scuola Basket Arezzo ed Estraclima sono impegnate nella gestione e riqualificazione energetica dell'impianto sportivo. Scuola Basket Arezzo 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 Scuola Basket Arezzo